Carnevale Carnevale è una festa principalmente dedicata ai bambini, pronti a mascherarsi dai personaggi più amati tra loro che popoleranno le strade urbane, con lancio di coriandoli e stelle filanti. Ma Carnevale è anche l'occasione per rilanciare l'economia cittadina e magari attrarre visitatori da altri comuni. Ed allora ecco che ritorna a Brindisi il mercatino di Carnevale 2023, iniziativa organizzata da ANAP ANCOS, città di Brindisi, e approvata con delibera di giunta dello scorso 3 febbraio. L'evento, che si svolgerà in Corso Umberto e Piazza Vittoria, inizierà il 4 febbraio e terminerà il 21 febbraio, dalle 9 alle 21. Secondo quanto proposto dagli organizzatori, la manifestazione prevede l'allestimento di 20 gazebo 3x3 su Corso Umberto, in cui saranno commercializzati prodotti tipici quali dolciumi, cioccolato, pasticcerie siciliane, manufatti artigianali, e comunque non in concorrenza con le attività commerciali esercenti. Saranno inoltre previste delle attività di animazione per bambini, con mascotte, ludoteche ed anche eventi sportivi a Piazza Vittoria. La volontà dell'amministrazione è dunque quella di destagionalizzare Brindisi e favorire eventi e manifestazioni che rendano accogliente e attrattiva la città in ogni periodo dell'anno, con l'auspicio che il flusso di gente possa animare almeno in parte il centro cittadino, troppo spesso immesso in secondo piano rispetto ai centri commerciali.